Spoleto Festival Corner ospita anche le istituzioni. Comune di Spoleto, assessore allo sviluppo economico, Margherita Lezzi. Intervista di Carlo Ceraso. Margherita Lezzi, assessore allo sviluppo economico e al turismo. Spoleto città di cultura, ma l'economia di Spoleto non gira intorno solo alla cultura, bensì anche al turismo e all'attività economiche. La recente iscrizione della Basilica di San Salvatore, l'iscrizione quale patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO è sicuramente una carta vincente per rilanciare il turismo. Sì, questa è un'opportunità sicuramente molto importante per la città di Spoleto che comunque è già ricca di suo ed ha delle eccellenze conosciute in tutto il mondo. Questa è un'opportunità che sicuramente Spoleto non si farà sfuggire e intorno alla quale lavoreremo per fare in modo che diventi ancora più città del mondo. La città di Spoleto deve essere conosciuta anche per questa motivazione, anche per questo riconoscimento che noi ci aspettavamo da tempo e sul quale devo dire la città di Spoleto e l'amministrazione tutta ha lavorato moltissimo per il riconoscimento. Quale sinergie metterete in atto con il comune di Campello, il cui tempietto delle fonti sul Critun è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità? Il loro sarà un ruolo determinante perché purtroppo negli ultimi tempi il ruolo dell'amministrazione è più quello di facilitatore di iniziative, di eventi ma il ruolo degli albergatori e delle associazioni di categoria sta diventando determinante. Senza questa sinergia non si va da nessuna parte, io l'ho detto più di una volta, lo sviluppo economico si fa anche attraverso un'unione di associazioni, un'unione di idee, di progetti che non debbono essere solo dell'amministrazione comunale ma delle associazioni stesse. Cultura, turismo ma anche piccola e media impresa. Lei da poco ha concluso un accordo con la società TAM, vuole illustrarci le quali opportunità di lavoro per i giovani? Sì, intanto tengo a precisare una cosa. Io dal momento in cui ho assunto questo ruolo ho pensato che lo sviluppo economico di una città e della città di Spoleto, che comunque è già un'eccellenza per tante motivazioni in tutto il mondo, dovesse avere un ruolo importante anche nell'ambito dell'artigianato, del commercio, delle piccole e medie imprese e dell'industria anche. Nell'ambito di questo ho lavorato a un nuovo insediamento produttivo che riguarda case ecologiche, vetri solari ed è un insediamento produttivo di cui io sono particolarmente fiera perché per Spoleto, secondo me, sarà un'opportunità importante anche per nuovi posti di lavoro. Non solo, ma è la green economy che in qualche maniera l'Umbria crede, la regione crede e che quindi Spoleto in questo senso è una delle prime città a svilupparne il contenuto.